Traduzione e spiegazione di Swadhi Vina Gazzia Vaktivedanta Swami Shila Prabhupada Kijai Molto tempo fa, animato da un intenso desiderio di sapere, Sanat Kumara, il primo dei giovani santi accompagnato da altri grandi saggi, rivolse queste stesse domande sulla verità che riguardano Vasudeva, il Signore Supremo, a Sankarshan che risiede al fondo dell'universo Spiegazione, questo verso spiega come, quando e a chi il Signore annunciò direttamente lo Srimad Bhagavata domande simili a quelle di Vidura furono poste dai grandi saggi guidati da Sanat Kumara e fu Sankarshan un'emanazione plenaria del Signore Supremo Vasudeva a rispondere Leggo altri due versi A quel tempo Sankarshan meditava sul suo Signore Supremo che i maestri della verità conoscono come Sri Vasudeva, ma per aiutare il progresso dei grandi e dotti saggi, aprì leggermente i suoi occhi di loto e cominciò a parlare I saggi erano scesi dai pianeti più elevati fino alle regioni inferiori attraverso le acque del Gange, tanto che i loro capelli erano bagnati Essi toccarono i piedi di loto del Signore che le figlie del re dei serpenti adorano con l'offerta di vari oggetti quando desiderano un buon marito Spiegazione, l'acqua del Gange scorre direttamente dai piedi di loto di Vishnu e il suo corso attraversa l'universo intero, dal pianeta più alto fino al più basso I saggi scesero da Satyaloka, seguendo la corrente dell'acqua, mezzo di trasporto accessibile a coloro che hanno i poteri dello yoga Per esempio, se un fiume scorre per molte migliaia di chilometri, un perfetto yogi può spostarsi in un attimo da un punto all'altro del suo corso semplicemente immergendosi nelle sue acque Il Gange è l'unico fiume celeste che attraversa l'universo intero I grandi saggi usano le sue acque sacre per spostarsi da un luogo all'altro Il fatto che i loro capelli fossero bagnati indica che erano stati immersi direttamente nell'acqua che ha origine dai piedi di loto di Vishnu, il Gange La persona che mette l'acqua del Gange sulla propria testa, senza dubbio, tocca direttamente i piedi di loto del Signore e in questo modo può liberarsi dalle conseguenze di tutti i suoi peccati Se dopo aver fatto il bagno nel Gange o essersi purificata da tutti i peccati non è migliore di quello dell'elefante che si lava accuratamente nel fiume ma appena uscito dall'acqua si copre di nuovo di terra Non mi litam yena tasmai shri gura vena maha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatiswapadantikam Vandeham Shri Gura Shri Yuta Padakamalan Shri Guran Vaisna Vamscha Shri Rupaam Sagra Jatam Sahagana Raghunatam Vitam Tamsajivam Sathvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitaamscha He Krishna Karuna Sindho Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchan Gaurangi Radevindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyayvacapatitanam Pavanebhyo Vaishna Vebhyo Namunamaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advetagadadara Shrivasadigora Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Prabhupada Kijai Molto tempo fa, animato da un intenso desiderio di sapere, Sanat Kumara, il primo dei giovani santi, accompagnato da altri grandi saggi, rivolse queste stesse domande sulla verità che riguardano Vasudeva, il Signore Supremo, a Sankarshan, che risiede al fondo dell'universo. Prima di tutto, qui si parla di molto tempo fa, e la parola stessa Purana vuol dire molto antico, e c'è una personalità molto famosa che ha detto se vuoi trovare nuove idee, leggi libri antichi, leggi libri vecchi. E quindi Purana sono testi che ci parlano di avvenimenti accaduti molto tempo fa, ma la conoscenza che trasmettono è estremamente rilevante per noi oggi, che siamo nel 2024 quasi, ci stiamo interrogando sulle verità della vita, proprio come hanno fatto i grandi saggi guidati da Sanat Kumara, che è chiamato qui un giovane santo, è rimasto appositamente in una forma di bambino, con i suoi poteri mistici, perché in questo modo non avrebbe attraversato la pubertà e quindi non avrebbe avuto mai desideri sessuali. E è descritto nello Srimad Bhagavatam di quando Brahma, che ha generato i quattro Kumara per procreare, come progenitori dell'universo, ha detto loro ok, adesso voglio che voi vi impegnate nella procreazione dopo che avete compiuto tante austerità. E loro hanno detto no, grazie. E oggigiorno se un figlio dice no al padre è normale, anzi, è già tanto che non gli tira un pugno. Ma a quel tempo, e specialmente dei Brahmachari, dire no al padre era uguale a dire no al maestro spirituale. Ma è detto che a uno scopo superiore talvolta è anche possibile andare contro l'ordine di un superiore. E in questo modo i quattro Kumara sono sempre in questa forma di bambini e però sono molto saggi e hanno realizzato completamente l'aspetto ultimo della verità assoluta. Mentre prima erano impersonalisti quindi adoravano la verità assoluta come il Brahman impersonale, un giorno hanno hanno usato il profumo delle foglie di Tulasi miste allo zafferano che erano state offerte ai piedi di loto della divinità. E quindi lo Shimad Bhagavatam descrive Molto poetico questo verso. Tassiara Vinda Nayanasya Padara Vinda Khingyalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Vayu è che erano state offerte a chi? Tassiara Vinda Nayanasya Padara Vinda ai piedi di loto di Krishna che agli occhi di loto. e Antargata Svavivarena Chakara Tesham e questo vento è entrato dentro attraverso l'olfatto e cosa ha creato nel cuore? Apicitta Tanvo ha ad duri di cuore questo è l'impersonalista che non conosce l'aspetto ultimo della verità assoluta e non ha una relazione a aver odorato questi fiori di zafferano misti alle foglie di tulsi quindi vediamo quanto è importante l'adorazione della divinità l'offerta di fiori di incensi e sono in grado di alleggerire il nostro cuore di ammorbidirlo e di farci entrare in intimità con il Signore Supremo e questi grandi saggi quindi sono poi diventati completamente realizzati e quindi hanno realizzato l'aspetto ultimo della verità assoluta come persona e qui si parla di Sanat Kumara che guidato da altri saggi si avvicina al Signore Supremo sul fondo dell'universo perché era vivizzata vivizzava molto molto desideroso di avere le risposte alle sue domande e questa è la qualifica di un ascoltatore sincero che vuole veramente comprendere la verità assoluta non lo fa solo per curiosità per passare il tempo ma è veramente desideroso di comprendere la verità assoluta e di abbandonarsi alla verità assoluta e questo desiderio è paragonato all'appetito che abbiamo quando dobbiamo mangiare se non c'è appetito non avremo una digestione molto forte quando siamo abbiamo problemi di stomaco non c'è appetito e allora non digeriamo bene il cibo che assumiamo invece quando c'è la fame vuol dire è un segno di salute e così anche nella vita spirituale se non c'è questo intenso desiderio di conoscere Dio di comprendere come funziona l'universo in cui viviamo vuol dire che non siamo in salute spiritualmente mentre quando siamo in forma avremo avremo naturalmente questo desiderio spontaneo di conoscere e se magari non ne abbiamo tanto basta che come si dice fan the spark quindi facciamo aria sulla scintilla come quando dobbiamo accendere e far riprendere il fuoco della stufa dobbiamo mettere aria e gradualmente l'abbraccio si vivifica sempre di più così anche se abbiamo un minimo di desiderio basta che lo coltiviamo lo nutriamo e poi l'appetito viene mangiando si dice quindi il desiderio viene ascoltando e più ascoltiamo e più ci vengono domande più ci vengono realizzazioni e più apprezziamo il messaggio trascendentale che contiene lo Srimad Bhagavatam quindi per fare questo bisogna essere Muni Munayoh qui si parla dei grandi saggi Muni vuol dire pensatori non sono persone che vivono così nel mondo dei sogni no sono persone che si interagono sono riflessive sono meditative e quindi una tale persona è in grado di apprezzare veramente il messaggio contenuto in queste pagine del Bhagavatam e vedendo il loro desiderio Sankarshan che non è altro che un'espansione di Balarama sappiamo la verità originale assoluta che è Krishna la sua prima espansione che è Balarama e da Balarama chi emana Sankarshan poi da Vasudeva Sankarshan Pradyumna Niruddha emana Narayana e poi da Narayana emanano ancora una seconda emanazione quadrupla Vasudeva Sankarshan Pradyumna Niruddha e da questa seconda emanazione quadrupla vengono i Purusha Avatara quindi Mahavishnu Garbo Dakashai Vishnu e Kshiro Dakashai Vishnu e poi viene Brahma e poi da Brahma tutto l'universo si manifesta quindi Sankarshan è un'espansione diretta di Balarama e quindi in quanto tale rappresenta anche il Guru Tatua Balarama è il Guru originale e loro i grandi saggi hanno avvicinato Sankarshan per ricevere le risposte non è che hanno detto no siamo grandi saggi siamo a posto così no hanno comunque più uno è saggio più ha il desiderio di conoscere non è che una persona saggia dice ok sono a posto non è che è perché ieri abbiamo mangiato non mangeremo più anzi oggi magari c'è qualcuno che fa digiuno perché è Kadashi ma Kadashi farà venire un grande appetito poi domani quindi sì Sankarshan ha visto era adorato nell'adorazione di Vasudeva quindi questo è il maestro spirituale che è sempre impegnato nel servire Krishna però quando vede che qualcuno è desideroso di comprendere è pronto anche a interrompere momentaneamente la sua adorazione e introdurre quella persona alla comprensione della verità assoluta se vede che ha il giusto atteggiamento quindi Sankarshan aveva gli occhi in meditazione chiusi dove meditava sul Signore Supremo Vasudeva ma quando ha visto i grandi saggi che erano Vivitzatas di fronte a sé ha deciso di esporgli la verità assoluta e questi grandi saggi come erano arrivati sul fondo dell'universo attraverso le acque del Gange che scorrono dai pianeti superiori arrivano a partire dal buco che è stato fatto da Vamanadeva che nella storia dell'ottavo canto leggiamo di come con il suo secondo passo l'alluce di Vamanadeva ha bucato le coperture dell'universo e le acque dell'oceano causale si sono hanno iniziato a percorrere l'universo intero a fluire verso il basso e quindi sui pianeti superiore il Gange è chiamato Mandakini e sul pianeta terra Ganga e poi passa anche dai pianeti inferiori e arriva fino in fondo all'universo dove è detto che risiede Sankarshan e i saggi hanno questi poteri mistici che permettono loro di viaggiare attraverso le acque di un fiume e lo diceva anche Silla Prabhupada che quando si trovava al Kumbha Mela a Prajag che molti grandi saggi che si trovavano lì che vanno regolarmente al Kumbha Mela vanno lì attraverso le acque del Gange e si riescono a teletrasportare da un luogo all'altro semplicemente con attraverso le acque del Gange e poiché le acque del Gange sono in diretto contatto con i piedi di loto di Krishna hanno un grande potere purificatore è detto nello Srimad Bhagavatam Dice l'ultimo capitolo dello Srimad Bhagavatam dodicesimo canto Nimdaganam Yata Ganga proprio come tra i fiumi il più elevato è il Gange Devanam Aciuto Yata e proprio come tra tutti gli esseri celesti Aciuta Shri Krishna è il Supremo Vaishnavanam Yata Shambhu proprio come tra tutti Vaishnava i devoti del Signore Shiva il Supremo Purananam Idam Tata tra tutti i Purana lo Srimad Bhagavatam è il Supremo quindi il Gange tra tutti i fiumi è considerato il più potente il più sacro e ha un grande potere di purificare coloro che vi si bagnano tant'è vero che ci sono pellegrini in India che fanno migliaia di chilometri solo per fare un bagno ma come dice Shila Prabhupada in questa spiegazione non basta semplicemente limitarsi a fare un bagno nel Gange perché se noi quando usciamo dal bagno non abbiamo una mentalità differente tutti i peccati che ci siamo tolti tutti i peccati che se ne sono andati grazie a quel bagno ritorneranno perché quando usciremo dall'acqua la nostra mentalità sarà sempre macchiata dalla lussuria dall'avidità dalla collera eccetera mentre il segreto è si bagnarsi nel Gange ma quando si esce dall'acqua non commettere più attività nefaste attività che ci coinvolgono alla esistenza materiale e così nello Shima Bhagavatam è detto che una persona che ha una mentalità animalesca che le persone che hanno una mentalità da asino o da mucca che non sono considerati animali molto intelligenti per quanto la mucca sia sacra non è molto intelligente infatti lo vediamo che quando arriva un pochino di prasada si scannano l'una con l'altra per avere un po' di cibo e non hanno una grande capacità di discriminare talvolta tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato così una persona che ha una mentalità animalesca cosa fa? Yassiatumabuddhi Kuna Petri dato che considera questo corpo materiale che non è altri che un sacco di tante cose putride come se stessa e quindi è tutto il giorno a guardarsi allo specchio a farsi i selfie se andiamo in giro vediamo tantissime tantissime persone specialmente i giovani che si fanno un selfie di qua di là di giù ci sono veramente persone casi patologici oggigiorno di persone che non riescono a non farsi dei selfie quindi si alzano al mattino e si devono fare un selfie poi vanno in bagno e si fanno il selfie perché sono troppo selfish ovvero troppo egoisti pensano solo a se stesso e quindi chi ha questa mentalità e considera il corpo come se stesso è considerato un animale Svadikalatradishu Bomaijadi e considera sue le cose che sono relative a questo corpo quindi i parenti e la terra natale Bomaijadi come un luogo di grande adorazione quindi quando c'è l'inno della nazionale tutti in silenzio perché è proprio una meditazione veramente profonda sulla verità assoluta e poi Bomaijadi e questa persona con questa mentalità animalesca si reca in un tirta in un luogo di pellegrinaggio salile per farsi un bagno ma senza avere interesse nell'ascoltare le persone realizzate che vi abitano quindi vanno in un luogo sacro per espiare un po' i loro peccati per purificarsi un po' vanno a confessarsi alla domenica e poi a lunedì riprendono con le loro attività materiali normali senza aver minimamente trasformato la loro concezione della vita e invece una persona che ha una mentalità divina non considera prima di tutto se stessa come il corpo ma comprende di essere molto di più comprende di trascendere questa natura materiale composta di otto elementi e non considera suoi i parenti non considera suoi gli oggetti che le sono stati affidati e non considera il luogo dove è andato il suo corpo come un luogo particolarmente speciale ma anzi perde qualsiasi interesse verso queste cose quando andavo a distribuire i libri tante volte le persone mi chiedevano ma che squadra tifi e io dicevo ma sinceramente non tifo nessuna squadra e le persone ci rimanevano male perché ma come il tuo cuore non appartiene a una particolare no e quindi non considera appunto la terra natale in modo particolare e Yathir Tabuddhi Salilena Karichit e quando visita un luogo sacro o si fa il bagno nel Gange è interessata a incontrare le persone che hanno la conoscenza e che possono guidarlo nella trasformazione nella purificazione e nella realizzazione spirituale quindi qui si parla del Gange che appunto emana direttamente dai piedi di loto del Signore Supremo è in diretto contatto con i piedi di loto del Signore Supremo ma è detto che ancora più sacra del Gange cos'è? La Bhagavad Gita perché emana dalla bocca di loto del Signore Supremo e è proprio detto nella Gita Mahatmia che proprio come tutti adorano il Gange perché emana dai piedi di loto del Signore così la Bhagavad Gita che emana Svayam Padmanabhanas Padmanabhasya Mukha Padma Vinistrita siccome la Bhagavad Gita emana dalla bocca di loto del Signore Supremo è ancora più sacra del Gange e contiene gli insegnamenti che sono in grado di trasformare la nostra coscienza e poi il Mahamantra invece ha detto che emana dal cuore del Signore Supremo e quindi è ancora più sacro ma la Bhagavad Gita ha un potere purificatore ancora più elevato del Gange ed è per questo che dovremmo veramente fare della Bhagavad Gita il nostro faro la nostra guida per fare in modo da uscire da questa esistenza materiale e abilitarci permetterci di entrare in diretto contatto con il Signore Supremo come hanno fatto questi grandi saggi guidati da Sanat Komar avete qualche domanda o commento fin qui con il Signore Supremo Bella domanda. Allora, la domanda è come facciamo a comprendere se il nostro desiderio è sincero oppure è misto a altre motivazioni materiali, personali. E sì, questa domanda tante volte me la sono fatta, no? Quando si sente parlare della sincerità. Bisogna essere sinceri. E io mi sono sempre chiesto, ma io sono veramente, cioè io tante volte sono qua, faccio queste cose qui, ma non è che mi faccio più di tanto questa domanda, no? Se quello che sto facendo è sincero. Cosa vuol dire sincero? E come abbiamo spiegato anche recentemente, cosa vuol dire la sincerità? Vuol dire non avere motivazioni personali e in particolare nel Bhagavad Gita si parla di quattro tipi di persone che si avvicinano a Krishna con motivazioni miste. Quindi si possono categorizzare come desiderio di uscire dall'infelicità, desiderio di ottenere guadagni materiali, desiderio di rispondere alle proprie domande, alla propria natura inquisitiva, e desiderio di... Il Jnani è colui che desidera abbandonarsi. Quindi il Jnani è veramente quello più puro tra tutti questi quattro tipi di persone. E il Jnani è detto che Bahunam Janmanamante Jyanavanmanprapadhyate È colui che dopo tante vite arriva veramente al punto di abbandonarsi a Krishna e in questo modo comprende che il Signore Supremo è la causa di tutte le cause. Ma una tale anima, dice Krishna, è molto rara. Quindi noi generalmente rientriamo in una delle sottocategorie di persone che hanno motivazioni miste. E come dicevamo, la Chaitanya Charitamita, negli insegnamenti di Sri Chaitanya a Sanatana Goswami, ci spiega in che modo una persona che non è completamente sincera, che ha altre motivazioni, può raggiungere la Shuddha Bhakti, la pura devozione e quindi il puro desiderio. Perché desiderio puro, non è che uno può avere il desiderio puro e una devozione impura. Desiderio puro vuol dire il desiderio puro di servire Krishna, e quindi una devozione pura. Sono sinonimi. E tant'è vero che è detto che sì, la devozione non è altro che l'intenso desiderio di dare piacere a Krishna. E Shichaitanya dice Sadhu Sangha Kripa Kimva Krishna Kripae Kamadidu Sangha Chari Shuddha Bhakti Pai Sadhu Sangha, si può ottenere questa sincerità completa, Sadhu Sangha Kripaa, attraverso la misericordia che si ottiene a contatto di un Sadhu, o a contatto dei Sadhu, o Krishna Rakhripae, la misericordia diretta di Krishna. E cosa vuol dire ottenere la misericordia dei Sadhu? Vuol dire che i Sadhu sono soddisfatti del nostro atteggiamento, del nostro servizio. Quando invece non sono soddisfatti, vuol dire che c'è qualcosa nelle nostre motivazioni che è errato, è macchiato da desideri egoistici, da motivazioni nascoste. E quando noi invece otteniamo la loro benevolenza, Kamadidu Sangha Chari Shuddha Bhakti Pai Ci liberiamo, gradualmente, non è che avviene dal giorno alla notte. Kamadi, dai desideri lussuriosi, dalla collera, dai sei anarta principali, Kamakro Daloba Vediamo come gradualmente, magari non lo vediamo subito, ma lo possiamo constatare, Io sto praticando il servizio devozionale da tre mesi, tre mesi fa avevo molta più lussuria, avevo molta più avidità, molta più rabbia, molto più orgoglio, molta più invidia, molto più, ero molto più illuso. E invece, dopo un po' di tempo sto notando che c'è una purificazione. Quello vuol dire che la nostra sincerità si sta manifestando, e la nostra natura originale sta tornando alla luce. Quindi la sincerità non è che ce l'hai o non ce l'hai. No, tu non hai fede, quindi sei nel libro dei morti, basta, sei stato segnato. Io invece ho fede, quindi sono in paradiso. No, puoi vederlo, puoi trasformare la tua sincerità, la tua fede. In che modo? Vedendo da questo sintomo, quindi che ti stai liberando da Kamadi, dai desideri materiali, i desideri di godere separatamente da Krishna, oppure anche da Dusanga Chari, che ti stai liberando dalle cattive compagnie. Quindi non hai più il desiderio di stare con chi non vibra nella tua stessa lunghezza d'onda. Mentre più abbiamo desideri materiali, e più abbiamo il desiderio di stare in compagnia con chi ha gli stessi desideri. Quando perdiamo questi desideri materiali, automaticamente non ci sentiamo più a nostro agio, nelle stesse compagnie che frequentavamo prima. Chiaramente non sempre è possibile dire, ok, allora voi siete materialisti pieni di desideri materiali, via, me ne vado, mi ritiro in un ashram per sempre. Magari qualcuno che ascolta, e anche noi abbiamo comunque la necessità di avere a che fare, anche con Dusanga, con chi non è un'associazione favorevole per il nostro sviluppo spirituale, ma in realtà non ci associamo veramente. Lo facciamo superficialmente per, per, come si dice, per educazione, per dovere, per prassi, ma in realtà il vero Sangha, la vera compagnia avviene quando noi apriamo il nostro cuore a qualcuno. I sei scambi di affetto sono ciò che costituiscono il Sadhu Sangha, il Sangha veramente, quindi dare e ricevere doni, esporre i propri pensieri, ascoltare le realizzazioni altrui, e dare il cibo, offrire cibo e ricevere cibo, sono sei scambi di amore, e questi li riserviamo solo a chi ci porta verso Krishna, quindi al Sadhu Sangha. E più la nostra sincerità è pura, e più abbiamo, lo vediamo da questi sintomi, che ci stiamo liberando dai desideri materiali, e ci stiamo dissociando da chi non è sincero, in ultima analisi. E anche devoti, non è che, perché uno è un devoto, ha l'iniziazione, è in un movimento, è per forza una persona con cui ci dobbiamo associare. Dobbiamo diventare capaci di discriminare anche tra gli atteggiamenti di un devoto, tra l'esempio che offre un devoto, e il servizio che svolge un devoto, dobbiamo vedere, sì, magari è un devoto, però non mi fa bene la sua compagnia, oppure la sua compagnia mi fa molto bene, ed è per questo che è importante leggere gli Shastra, leggere le scritture, perché nelle scritture si parla delle qualità che deve manifestare chi sta sviluppando la devozione per Krishna. E quindi, se vediamo che qualcuno sta sviluppando queste qualità, allora dovremmo associarci, altrimenti è meglio evitare la compagnia di chi non è esemplare. Bhakti Vinod Takur dice che io desidero ardentemente la compagnia del devoto, che è che non ha più desideri per Bhakti Jai Shishigora Nityananda Kija, per godimenti materiali, Mukti, anche una liberazione impersonale, e non ho più voglia di stare con questo tipo di persone, l'unica cosa che voglio, Labaite, Tankha, Sangha, Yanurakta, voglio stare solo con i devoti, che sono liberi da Bhakti e Mukti Spriha, e dice che è meglio nascere come verme nella casa di un devoto piuttosto che nascere come Brahma orgoglioso che non è devoto a te, dice Bhakti Vinod Takur. Quindi dice in un'altra canzone Bhakti Vinod Takur Tumita Kukura Bolia Janaha More Per favore Bhakti Vinod Takur rendimi il tuo cane voglio essere il tuo cane dice Bhakti Vinod Takur che è un'anima così elevata prega per diventare il cane di un Vaisnava. Quindi noi dovremmo ambire alla compagnia all'associazione intima di chi ha veramente la devozione per Krishna o che comunque si impegna nell'ottenerla nell'ottenere quella devozione pura e invece dovremmo dissociarci da chi non è completamente sincero. e Shilla Prabhupada diceva in realtà sono tutti puri devoti in questo movimento gli hanno chiesto ma davvero ma anche il nuovo Bhakti che si è unito sei mesi fa si si sono tutti puri devoti è solo questione di maturità c'è il mango verde e il mango rosso è sempre mango lo chiami sempre mango solo che uno è verde e quindi deve ancora maturare e l'altro è già maturo è succoso se il mango verde rimane attaccato all'albero diventerà maturo se si stacca dall'albero prima e viene così lo perdiamo allora non è più un mango però basta semplicemente rimanere collegati attraverso il satsanga le istruzioni e il sadhana Shrima Bhagavatam in questo modo tutto quello che deve avvenire avviene ci purifichiamo non ci dobbiamo neanche fare troppe domande siamo sinceri non siamo lì sempre ogni cinque minuti ma sono veramente sincero basta che serviamo con intensità e la sincerità si manifesta aumenta giorno dopo giorno e una volta Shruta Kirti Prabhu che era il segretario personale di Shrima Prabhupada lo accompagnava da un tempio all'altro in tutto il mondo andava nei templi negli aeroporti c'erano i Kirtan estatici che accoglievano Prabhupada i devoti che piangevano ridevano si rotolavano per terra e dice Prabhupada ma vedo tutti questi devoti che hanno un amore così puro per te io sinceramente non è che sento tanto questi questi grandi sintomi di estasi ma cosa vuol dire e Shrima Prabhupada ha detto a te piace servirmi e lui ha detto sì questo è sufficiente basta l'importante è trovare piacere nel servizio poi non ci dobbiamo fare troppe domande quando arriverà l'estasi quando arriverà la la pura devozione i miei peli basta semplicemente che aumentiamo sempre il nostro servizio e l'intensità del nostro servizio e che siamo sicuri che i devoti il maestro spirituale siano sempre compiaciuti e soddisfatti del nostro servizio questo fa in modo che la nostra sincerità si purifichi e diventi sempre più pura questo è quello che mi viene da dire Aldo che avevi detto cinque minuti anni itai cinque minuti di bravo insomma hai detto Shastra hai detto Shastra poi il servizio la scala chiede Aldo se la scala è gli Shastra direi che sì sono abbastanza sullo stesso piano e sì gli Shastra sono alla base nel senso che ci aiutano a comprendere chi è veramente un Sadhu chi non è un Sadhu chi è il Guru chi non è il Guru quindi gli Shastra sono fondamentali e però noi di solito arriviamo agli Shastra attraverso i Sadhu e quindi sono comunque interconnessi e poi il servizio è ciò che veramente ci qualifica per poi raggiungere la meta e quindi sì sono se vogliamo non è proprio una scala ma sono tutti elementi essenziali nella nostra vita spirituale come dice Narottam Das Thakur Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita tutte le glorie tutte le glorie Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita i nostri chi è che adoriamo noi Hari Guru Vaishnava il Signore Supremo il Maestro spirituale i Vaishnava Bhagavata lo Shri Mat Bhagavatam e Gita la Bhagavata Gita se vogliamo condensare il Bhakti Yoga Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita cinque parole queste sono le nostre fonti di costante ispirazione e di liberazione quindi sì possiamo dire così ok bene oggi è Ekadashi Shila Bhaktivinod canta Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palanakori adoro i giorni sacri in cui si celebrano le qualità meravigliose di Hari come Ekadashi e Jammassami perché sono Bhakti Janani sono la madre della devozione quindi giorni come Ekadashi sono giorni in cui la nostra devozione può aumentare può manifestarsi se ci dedichiamo più intensamente a Shravanam Kirtanam e facciamo un po' di austerità il mio maestro spirituale diceva che il fatto di non prendere cereali e legumi nel giorno di Ekadashi che è diciamo lo standard minimo ci permette di non prendere il karma che si si manifesta nei cereali e nei legumi in questo giorno c'è tutta una storia nipurana di come in questo giorno c'è il peccato personificato che si rifugia all'interno dei cereali e dei legumi e quindi è per questo che è importante non prendere cereali e legumi nel giorno di Ekadashi ma diceva Maharaj che Bhakticharu Maharaj che fare questo tipo di digiuno ci permette di non prendere karma negativo ma per purificarci invece bisogna fare digiuno completo quindi evitare possibilmente i solidi anche e i cibi solidi e in questo modo Ekadashi porta un beneficio molto maggiore e infatti possiamo constatare che alle volte magari fare questo tipo di digiuni è anche piuttosto difficile doloroso ma chi lo fa sperimenta che è molto purificante poi quando uno ha fatto questo tipo di austerità poi il giorno dopo si sente molto più leggero e purificato Kada Shivrata Kijay Grantharaj Shrima Bhagavatam Kijay